Immagina un luogo dove il mare si tinge di blu intenso, dove le isole Olie sembrano danzare all'orizzonte. Benvenuti a Piedimonte 2.0, il Lido che trasforma ogni giornata in un'avventura indimenticabile. Scopri la magia di Rodia, gioiello della provincia di Messina, e lasciati cullare dalle onde in una delle spiagge più splendide della testa. Qui, tra confortevoli sraio e ombrelloni che dondolano leggeri sulla sabbia dorata, Piedimonte 2.0 ti accoglie con calore e stile. Ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Assapore il piacere di una giornata al mare con servizi di alta qualità, dal nostro bar che offre cocktail freschi e stuzzicanti, granite e gelati dai gusti deliziosi, alle celebre pizza Piedimonte 1.0, dove l'eccellenza incontra la tradizione. Ti aspettiamo a Piedimonte 2.0, per vivere insieme un'esperienza unica sul mare. Scopri il nostro Lido a Rodia e lasciati conquistare dal fascino delle isole odio. Il tuo rifugio estivo ti attende.